Per noi è stata una gioia vedere poi tutta questa gente, questa risposta che c'è da parte di tutti, ma anche dall'estero. Continuano a telefonare e si può vedere, quando si può vedere. Ecco, noi siamo contenti di dire, bene, si può vedere oggi. Terminato il restauro, la Pala dell'Assunta è tornata a risplendere sull'altare maggiore della chiesa dei Frari da pochi minuti e già attorno c'è una folla che fa la fila per ammirarla. Ma il ritorno agli splendori originari del capolavoro di Tiziano ha un significato particolare soprattutto per i frati, che sono qui da secoli. Ho scelto questo giorno per l'inaugurazione della Pala dell'Assunta il giorno di San Francesco, perché per noi San Francesco, la Madonna, Frari e Frati è la stessa cosa, cioè sono in piena comunione da sempre qui a Venezia. I frati francescani sono in quest'area di Venezia da più di 700 anni, da quando nel 1231 il comune gli donò un terreno vacuo posto in Contrade San Stin, un terreno paludoso sul quale nel 1338 fu completata la più grande delle chiese di Venezia, la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Padre Lino Pellanda è qui da nove anni. La responsabilità è grande e comprende anche la gestione di altre tre chiese, San Pantalonto, Lentini e San Polo, una responsabilità non solo per il patrimonio artistico. E soprattutto curare la gente che viene, perché noi qui non possiamo solo far vedere le opere, dobbiamo accogliere la gente, così sono che frati siamo, siamo fatti per l'accoglienza, noi no, quindi siamo una comunità che accoglie, quindi tutti abbiamo un compito da svolgere qui per accogliere la gente. Oggi Padre Lino guarda e riguarda l'Assunta restaurata e ne trova continuamente nuovi particolari, anche nella cornice. Alcuni mi dicevano dove è Gesù, Gesù risorto, eccolo là, non si vedeva prima perché erano nere e così era nero, tutta la pietra d'istria era tutto nera, l'oro non si vedeva, la cornice era marrone. E allora adesso dà profondità, dà risalto così a tutta l'opera.